E' una figura quella di Vittorio Prodi riconosciuta e apprezzata da tutto il mondo politico e istituzionale, lo confermano le numerose manifestazioni di cordoglio arrivate alla notizia della sua morte. Vediamo. Mi stringo il dolore del presidente Romano Prodi per la scomparsa del fratello Vittorio, autentico uomo delle istituzioni, appassionato docente e ricercatore. Queste le parole della ministra dell'università, Anna Maria Bernini. Al governo arriva anche il messaggio del Viminale con Matteo Piantedosi, già prefetto di Bologna. Ho apprezzato la sua cura, dell'interesse pubblico e dei suoi concittadini, a cui ha ispirato tutte le scelte compiute nel suo percorso politico. Anche per il presidente dell'Emilia Romagna Bonaccini, Prodi ha sempre dato prova di attenzione per le persone e la comunità. Il sindaco Lepore lo descrive come il simbolo di una stagione di impegno politico istituzionale nel bolognese. L'arcivescovo Matteo Zuppi esprime vicinanza nella preghiera alla famiglia per un uomo a lungo al servizio della vita civile e politica. Ha sempre coniugato al futuro i valori di giustizia e solidarietà, commenta l'ex premier e compagno di partito Enrico Letta. Passione e impegno che ricorda anche la segretaria nazionale del PD, Elie Schlein. Un uomo discreto, sempre attento e più deboli, questo era Vittorio Prodi per l'ex presidente della Camera, Piere Ferdinando Casini.